Grande cabaret con Pucci che, dopo averlo dato l'operato del direttore artistico Lucio Gardin, manifestando l'intenzione di proporlo come conduttore del programma TV Colorado Caffè, ha condotto il lungo spettacolo intervallato da divertenti pillole musicali. Allora signori, per due anni consecutivi a DRO, cosa dire? Si sta sempre molto bene, ringrazio il mio amico Maurizio del Comitato che mi ospita con una gentilezza e con un'accoglienza meravigliosa. Sono sempre più curioso di sapere, quella che abita a fianco al palco, al primo piano, chi cazzo è? Perché ci sono sempre i fiori ma lei è chiusa sempre dentro. Una battuta, volevo essere simpatico. Ringrazio davvero questa cittadina di ospitarmi, mi trovo davvero bene e spero di tornarci presto anche solo in qualità di turista. Grazie e complimenti a tutti voi. Ciao.